Capitano Fabio Balasso, c'è da essere soddisfatti oggi, cosa ha fatto la differenza? Sicuramente abbiamo sbagliato di meno rispetto a ieri, quello sicuramente dai dati è evidente e siamo cresciuti anche in ricezione, quindi diciamo che si sono sommate due cose ed è andata molto bene rispetto a ieri. Perfetti nei primi due set, qualche sbavatura nel terzo, ma un caldo infernale si è fatto sentire in campo? Il caldo qua sicuramente non manca, si sente ogni giorno, però come hai detto tu, sì, diciamo che nel terzo set siamo partiti un po' a rilento, abbiamo commesso un po' di errori uno dietro l'altro e loro sono rimasti in partita, abbiamo giocato punto a punto e poi nel finale del set comunque i nostri turni in battuta hanno fatto la differenza. Adesso ci giochiamo il passaggio del turno con gli egiziani? Sì, adesso domani è il giorno di riposo, poi venerdì ci sarà comunque la partita più importante per passare il turno, per arrivare tra le prime quattro e poi ci sarà ogni partita una finale. Grazie.